La mandano subito di fuoco, faccio le riprese. Buongiorno, sono di Rozov Puglia, stiamo verificando proprio dal vivo una dimostrazione con una giovanissima e abbiamo un maestro del compitato regionale Kayak, giusto? Sì. Del Coni. E questa cos'è? Una sedia di allinamento? Che cos'è? No, questa è giusto una prova dimostrativa per vedere un attimo cosa significa pagagliare in kayak. Attenzione a questa mano, all'alto un pochino, che ci si è più comodo, vai. Quindi qui al Salone Nautico di Puglia si può fare anche questa esperienza? Esatto, esatto, sì. Possiamo provare la canoa. Dai, 50 metri ancora giù, brava. Tiriamo a 150, come abbiamo detto prima. Brava, stai pure aumentando, volto, bene, pesante? Ce la fai? Bravissima. 20 metri ancora. Dai, dai che ci siamo, dai che ci siamo. 10 metri. Molto bene, bravissima, 150, bravo, bravo. Ti può piacere la canoa, che dici? Vieni qua, aspetta, bravo. Anche i cacce. Mi ha autorizzato a pubblicarla, questo? Non so. Ecco, così quando vai al mare il telefono sta velo sicuro. Allora, mi ha autorizzato a pubblicarla questa breve intervista? Ma se qualcuno vi vuol contattare, dove dobbiamo andare? Allora, basta cercare sul sito federale federcanoa.it e si trovano tutti i contatti di tutta la federazione. Federcanoa.it allora? Federcanoa.it, esatto. La ringrazio, arrivederci e buongiorno. Si procede in questo modo.